Siediti se vuoi perché tetto fra noi fra un po' ti faccio un'intervista non devi preoccuparti se i tuoi pensieri vanno a destra al centro da sinistra devi troccarti un po' sembri un gufo sul comò però sei il primo della lista che ne so ti dirò mi importa solo che tu non mi faccia il qualunquista Ben trovati, oggi affrontiamo un problema, una problematica se volete, soltanto se qualcuno la ritiene tale che è quello dell'editoria, del settore dell'editoria, non ne parliamo molto spesso generalmente ospitiamo gli scrittori o le scrittrici che hanno in uscita dei libri che vogliono magari lanciare chiaro anche loro quando li presentiamo, prima di presentarli magari ci parlano che il momento è difficile tutti sperano di poter vendere un pochettino di più ma ognuno crede a quello che poi è il suo talento che generalmente dovrebbe emergere e venire fuori l'editoria marchigiana è un'editoria molto particolare, non se ne parla, dicevamo molto spesso si è scritto sull'editoria marchigiana, si sono fatti convegni, si sono fatti congressi, si sono fatti incontri ma noi vogliamo andare un pochettino più in dentro a queste tematiche che si affrontano i vari editori quando si incontrano fra di loro e diranno cosa faremo da grandi Valentina Conti è una giovane editrice che già da diversi anni ha dato vita ad una casa editrice molto importante per un settore di cui poi parleremo è una casa editrice che lei definisce indipendente Valentina Conti è qui con noi, io la ringrazio di essere intervenuta e intanto cosa significa Valentina? Casa editrice indipendente perché qui già stai mettendo degli steccati sì, oggi esistono in realtà diverse definizioni io insieme ai miei colleghi editori delle Marche preferiamo chiamarla editoria di cultura e ricerca ciò significa che questi editori fanno cultura e fanno ricerca ogni giorno attraverso il proprio lavoro non cerchiamo il libro commerciale, non cerchiamo di andare incontro a un mercato che tra l'altro è viziato è viziato dall'editoria industriale io credo che quella che normalmente viene chiamata la piccola editoria o l'editoria indipendente è in realtà la grande editoria di questo paese proprio perché è fatta da tanti editori che fanno ricerca quotidianamente nella propria redazione con gli autori cercando di portare in avanti la cultura, la cultura di un territorio poi nel caso specifico delle Marche io ho individuato all'incirca sette editori di cultura e ricerca che hanno ormai un catalogo con molti titoli, hanno una linea editoriale quindi ben definita e soprattutto che la portano avanti da tanti anni io penso ai miei colleghi lavoro editoriale, Giorgio Magne, 35 anni che fa questo lavoro lo stesso Massimo Canalini che aveva prima Trans Europa, oggi Cattedrale e poi sempre ad Ancona Pequod, a Macerata ci sono Quad Libet, Liberi Libri e poi H di Matelica insomma questi sono tutti editori che hanno fatto una scelta ben precisa e che è dimostrata dal proprio catalogo e attraverso questo io credo hanno costruito la cultura contemporanea di questo territorio che attraverso la ricerca storica, la ricerca antropologica, sociologica e anche attraverso la narrativa, la narrativa esordiente tu hai parlato di una quasi contrapposizione anche se non si può dire così diciamo con l'editoria industriale chiamiamolo in questo modo ma allora scusami ma come si vive? perché già la grande editoria piange nel senso vendiamo poco eccetera eccetera come si vive soltanto di ideali? infatti non si vive, si sopravvive ma in ogni caso una contrapposizione certo diciamo che oggi la situazione è grave proprio qualche giorno fa è uscita gli ultimi dati per cui il settore è veramente in crisi come non lo era mai stato in precedenza diciamo che una volta l'editori industriale pubblicava il best seller di turno il sociologo nazional popolare eccetera perché con i proventi di quel libro potevano produrre una piccola collana di poesia un libro di cultura che ovviamente non incontrava il successo di pubblico del best seller oggi invece l'editoria industriale pubblica il best seller per pubblicare il secondo best seller pubblica Grisham per pubblicare il secondo Grisham ecco e non c'è più quell'investimento che invece si faceva prima nella cultura questo appunto è rimasto nell'editoria di cultura ricerca che così certamente sopravviva a stento io ho cercato di portare avanti alcune battaglie insieme ai miei colleghi proprio per far capire come è necessario l'intervento pubblico a sostegno dell'editoria di cultura ricerca adesso diciamo che non è proprio riuscito benissimo ma insomma io continuo a crederci d'altronde esempi illustri vi sono sono in Francia in modo particolare nel nord Europa negli stessi Stati Uniti c'era un bellissimo libro scritto da Schiffrin editoria senza editori che appunto sosteneva questo cioè che la piccola editoria di cultura ricerca per andare avanti ha bisogno di un intervento pubblico e questo è sicuro ne parli anche nel tuo libro che hai scritto tu proprio personalmente che è per piccina che tu sia l'editoria di cultura in Italia il caso Marche vogliamo dire il caso Marche Valentina o il caos Marche nel caso specifico? no devo dire che nel campo editoriale a mio avviso certo non dovrei essere io dirlo ma comunque io credo che le Marche siano un'avanguardia per l'editoria esiste un vero e proprio distretto editoriale come dicevo che va da Ancona a Macerata e io credo che una concentrazione così alta in un territorio invece piccolo anche con una poca popolazione come le Marche sia un caso più unico che raro io credo che non vi siano altre regioni con questa ricerca ultradecennale insomma in alcuni casi trentennale ma poi noi abbiamo precedenti illustri anche prima di questi che ho citato perché c'era stato Carlo Antonini con l'Astro Gallo abbiamo tanti esempi di grandi editori che poi sono stati i nostri maestri nel mio caso appunto i miei maestri sono stati il lavoro editoriale trans-Europa io ho iniziato a lavorare lì che ero ancora giovane e poi appunto ho aperto la mia casa editrice 13-14 anni fa e però ecco ci sono stati esempi importanti tieni anche presente che Ancona è stata in certo qual modo la culla dell'editoria contemporanea all'epoca negli anni 80 Pier Vittorio Tondelli insieme a Massimo Canalini avevano portato avanti il progetto Under 25 quindi rivolto ai giovani esordienti sotto i 25 anni e da quel progetto sono nati scrittori che noi oggi conosciamo a livello nazionale importantissimi tra l'altro c'è stato il libro d'esordio più venduto di tutti i tempi che è stato Jack Fruscianti uscito dal gruppo di Enrico Brizzi ma anche la Silvia Ballessa della guerra degli Antore il compleanno dell'Iguana fino ad arrivare i giorni nostri basti pensare che solo l'anno scorso, due anni fa è stato scoperto qui dal talento di scouting editoriale di Massimo Canalini la giovane Gaia Coltorti di Iesi che è stata nostra ospite ah bene, bene, bene quindi qualche mese fa le abbiamo fatto parlare sia del suo libro ovviamente affinità alchemiche affinità e affinite ci sono sia, però poco, molto poco ha parlato di quello che sta che ha in cantiere che sta scrivendo sì, sì, belli questa è stata sicuramente una scoperta voglio dire poi ripubblicata da Mondadori ecco, allora entriamo un secondino facciamo un attimo allora, quando è uscito edito da Canalini da Cattedrale sì, da Cattedrale chiaramente aveva una sostanza pubblicato da Mondadori ne aveva un'altra ma questo non deve succedere beh, non dovrebbe succedere sei d'accordo intanto o non sei d'accordo? diciamo che ogni casa editrice ha i suoi editor che quindi fanno il lavoro che in molti casi è anche un lavoro importante e indispensabile certamente l'ha fatto Massimo Canalini che io ritengo uno dei più grandi editor italiani che abbiamo oggi probabilmente gli editor di Mondadori hanno sbagliato target cioè loro puntavano su questo target giovanelismo young adult loro lo chiamavano però in realtà questo quello era un libro importante e anche il digno ironico della voce narrante che c'era prima e che poi si è persa forse è stato un danno ma questo senti una cosa invece ritorniamo a questo libro per piccino che tu sia io amo molto i libri e cerco sempre di andare a finire qualunque tipo di libro sia sia che parli di teatro sia che sia un noir un giallo qualunque cosa e io non direi mai a nessuno come va a finire ecco come va a finire questo cioè la tua come va a finire la piccola editoria culturale marchigiana ve lo svelo non è un giallo non è un giallo non è una spy story so che vanno molto di moda però no in questo caso io finisco con delle proposte proposte rivolte proprio alla regione Marche io spero che le voglia raccogliere delle proposte appunto che prendono comunque come esempi che già esistono in altre regioni e in altri paesi come andrà a finire io non lo so come va a finire credo che hai scusami hai una scrittura ottimistica ottimista oppure non ottimista alla fine io sono sempre ottimista anzi quel libro è un saggio scritto anche con uno stile abbastanza narrativo proprio per invogliare la lettura essendo un tema così specifico in fondo io credo che la cosa più importante oggi di cui si dovrebbero rendere conto prima di tutte le istituzioni ma poi certamente tutti noi è riuscire a guardare cosa succede oggi riuscire a guardare avere un'attenzione verso la cultura contemporanea finisce il libro con alcune proposte che io avevo pensato proprio per la regione Marche forse probabilmente ancora non sono state pienamente accolte ma ho fiducia che questo accadrà perché d'altronde il futuro della cultura passa anche per l'editoria appunto di cultura del territorio ma sai molto spesso si accusa la politica in generale soprattutto in questi ultimi anni poi in governi passati soprattutto che la cultura non paga tipo Carmina non Dante Panema ma non credo che sia che vaga in Italia credi che anche i nostri politici regionali accantoni in un momentino la cultura perché non ci sono i soldi non ci sono i fondi o proprio perché credono che la cultura non vaga la pena di portarla avanti come discorso beh ci vuole cultura certamente per fare politica ci vuole cultura per comprendere la cultura ora non voglio in ospetta certamente a me dare giudizi sulla politica del territorio credo però che la cultura sia un bene di prima necessità esattamente come la sanità certamente non si può tagliare sulla sanità non si può tagliare sulla scuola così come non si può tagliare sulla cultura al limite si possono fare delle scelte questo sì io credo appunto che si possa mettere da parte forse una cultura del passato una cultura che ormai conosciamo per far posto al nuovo alla cultura contemporanea e questo a mio avviso vale per l'editoria come vale per l'arte figurativa come vale per il teatro per la danza scusami allora io non vorrei che tu facessi la provocatrice in questo caso cioè Raffaello dico a caso Rossini dico a caso qui nella patria di 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 leopardi per non dire pergolesi e tanti altri dovremmo accantonarli per prendere per mano la cultura del novecento o del duemila che è quella nascente oppure dovremmo fare un miscuglio di questi due io credo che questi autori questi personaggi ci appartengono appartengono a nostra cultura temo però che quantomeno per quel che riguarda l'intervento pubblico quindi anche i contributi si limitino a questi grandi personaggi perché sono più spendibili sono più facili però sono dei biglietti da visita però certamente sono dei biglietti da visita hai visto anche quello che fece la regione anni fa con Leopardi con Dostinov con Dostinov giusto sbagliato che sia stato il problema non è questo il problema non significa dimenticare Leopardi noi tutti Leopardi lo conosciamo e fa parte di noi si può usare certamente come biglietto da visita però la politica dovrebbe avere il coraggio di guardare appunto a quello che accade oggi a chi sono gli scrittori di oggi a chi sono i grandi compositori di oggi a chi è qual è il teatro contemporaneo altrimenti è tutto troppo sbilanciato ecco è un discorso cioè si rimane perdonami davvero all'antiquariato della cultura e invece appunto dovremmo arrivare al contemporaneo però bisogna anche quella cultura averla del passato perché se no non si capisce il presente questo tranquillamente sicuramente dal mio punto io sono una storica quindi ovviamente la penso così quindi di formazione sono una storica di formazione sei una storica ecco una storica come te che fra l'altro ad Urbino hai seguito hai collaborato anche come insegnante per quello che si riferiva appunto alla ricerca storica con il rettore con tanti altri professori che vuol dire da ragazzina da giovane dire io da grande farò l'editrice ma ne trovi uno su un milione o no? ma devo dire la verità in realtà mi arrivano decine e decine di curriculum ogni giorno e questo significa che quindi ci sono molte persone molti giovani che in realtà guardano all'editoria come un possibile sbocco lavorativo temo però che vi sia un'idea molto romantica che poi anche era un po' la mia idea era molto romantica allora ma guarda affinità elettive Goethe e compagnia bella voglio dire ti presentano subito avevo letto il libro da ragazza di Sylvia Beach Shakespeare and Company qui raccontava gli inizi di questa libreria americana a Parigi frequentata da Hemingway da Fitzgerald e quindi ovviamente avevo l'idea romantica della casa editrice e poi la realtà è molto diversa la realtà è difficile proprio perché dobbiamo fare i conti con un mercato che non esiste e con anche la mancanza di aiuti e di contributi quindi quando mi fermano per strada qualcuno mi dice ma che bel lavoro tu non fai altro che leggere ma in realtà io riesco a leggere la sera intorno alle 11 mezzanotte quando finalmente mi rimango da sola fra i personaggi che hanno riempito diciamo le pagine di alcuni libri che tu hai editato quali sono quelli che tu ricordi perché lei generalmente studia il suo percorso storico e di memoria diciamo così ma non è soltanto lei qualche volta è entrata anche nel campo del romanzo della fotografia e compagna bella io ricordo una bella intervista che fece anche io perché ebbi la possibilità di conoscere Mario Dondero ecco Dondero credo che sia uno dei più grandi personaggi della storia della fotografia parliamo un momentino che cosa hai presentato di Dondero sì ho pubblicato questo libro Don De Road gli scrittori di Mario Dondero Mario è davvero la leggenda vivente del fotogiornalismo mondiale e in questo libro ho raccolto tutte le foto degli scrittori ci sono la famosa fotografia davanti all'edition de Minuit a Parigi in cui c'è Beckett in cui c'è Claude Simon Rob Grillier eccetera e la palisse dei personaggi di questi quattro piccoli personaggi con uno scatto mitico che ha fatto il giro del mondo ovviamente questo è conosciutissimo l'ho messo tra l'altro in copertina ma non so Pasolini qui c'è Laura Betti ecco Enzo Siciliano Saverio Tutti apro a caso Ionesco Sartre insomma davvero tutti gli scrittori del Novecento era anche un periodo storico e culturale molto ricco di fermenti quello di Sartre Ionesco era anche un tipo di teatro che si stava fermando certamente poi diciamo che Mario Donnero appunto ha vissuto per tanti tanti anni a Parigi così come ha vissuto tanti anni a Roma però Mario la grandezza di Mario è anche che lui di fatto è un giornalista un giornalista che racconta attraverso le foto non è un fotografo interessato alla pulizia della fotografia agli equilibri lui è interessato alla storia che deve raccontare alla persona che sta fotografando non allo scatto fino a se stesso e questa è la grandezza di Mario la sua grande generosità d'animo e io credo che solo così poi d'altronde si possano fare i libri cioè con una frequentazione vera, reale con uno scambio questo era un insegnamento di Joyce Lussu un'altra grandissima marchigiana che tra l'altro si è occupata di editoria di scrittura è stata una vera militante di cui tra l'altro ogni tanto riemerge sempre qualche cosa è anche recentemente uscito un libro di una raccolta mi pare qualche cosa proprio della Lussu credo l'anno scorso qualcosa il lavoro editoriale ha pubblicato queste opere scelte tra l'altro un libro molto bello di Joyce Lussu con una prefazione di Silvia Ballestra anche lei l'aveva frequentata a lungo ebbene io credo che lei sia stato un grande esempio di donna impegnata nella cultura nell'editoria nella politica lo è stato certamente per me e lei appunto quando traduceva questi poeti questi scrittori del lei era contro il colonialismo quindi ha fatto tante battaglie traduceva questi scrittori il più famoso è stato Hikmet tutta la questione kurda eccetera in realtà vi era un vero scambio umano tra loro non si limitava a leggere un libro e tradurlo ma doveva scaturire da una vera frequentazione da una condivisione di passione io credo che così nascano i libri certamente in questo modo è nato il libro Don the Road a cui sono molto affezionata perché sono molto affezionata e legata a Mario Dondero oltre a Dondero quale altro libro ci vuoi ricordare che magari ha un particolare significato per te io ho portato questo Luigi di Ruscio L'allucinazione e di Ruscio altro marchigiano un altro marchigiano Luigi è nato a Fermo nel 1930 e è emigrato a Oslo nel 57 e recentemente si è occupata anche la grande stampa nazionale Repubblica e compagnia bella nelle pagine proprio della cultura tra l'altro ne hanno parlato perché Luigi di Ruscio è stato fondamentalmente un poeta eppure nella sua vita ha pubblicato alcuni pochi romanzi infatti molti non sanno che cosa facesse realmente no nessuno in realtà lui è andato come dicevo a Oslo nel 57 e ha iniziato a lavorare una fabbrica di chiodi faceva l'operaio faceva l'operaio in Norvegia nessuno lo conosceva mentre in Italia lui continuava mentre lui continuava a scrivere poesie in Italia venivano pubblicate delle raccolte ad esempio con la prefazione di Quasimodo uno a caso sì Antonio Porta ne scrive aveva cercato di curare un'altra raccolta quindi le poesie di Ruscio sono comunque erano conosciute in Italia certamente non in Norvegia appunto dove nessuno lo conosceva però pochissimi conoscono la sua attività di narratore e era l'86-87 adesso non ricordo quando pubblicò il suo primo romanzo Palmiro pubblicato proprio da Trans Europa ad Ancona romanzo che Paolo Volponi definì il più grande romanzo del Novecento italiano ma guarda queste marchie che veramente sono avanguardia in tutto un milione e mezzo di abitanti noi abbiamo avuto appunto grandi personaggi Luigi certamente lo è stato e esattamente dopo vent'anni da quel Palmiro sono riuscita io a pubblicare questo secondo romanzo L'Allucinazione e tra l'altro lui era tornato in Italia lui tornava una volta all'anno una volta ogni due anni in Italia a presentare i suoi libri in quel caso mi sembra presentasse poesie operaie e io mi avvicinai gli dissi che insomma l'avevo seguito molto che avevo amato tantissimo Palmiro eccetera che quindi mi sarebbe piaciuto però pubblicare un'opera narrativa e lui mi disse che aveva molto materiale sul computer e appena sarebbe tornato in Norvegia l'avrebbe inviato così è stato lunedì mi invia questo materiale il mercoledì mi scrive una mail senta se non è interessata lo deve dire subito perché Luigi di Ruscia era così e io certamente ho detto ma ci mancherebbe altro come non sono interessata semplicemente appunto andava poi un po' messo a posto rivisto eccetera questo è il libro un libro bellissimo e c'è una frase molto bella a un certo punto in cui fa parlare la moglie Mary che compare in altri suoi libri e lui insomma fa tutta questa imbettiva contro il perculoni editore della Maladori e la moglie dice marito mio non disperare noi siamo vivi certa gente non riesce neppure a nascere questo è bellissimo e ho avuto la possibilità di intervistarlo tramite mail anch'io perché ho mandato le domande mi ha mandato immediatamente le risposte altre cose per esempio un libro che mi è molto caro che tu hai pubblicato alcuni anni fa che parla di un periodo che ho vissuto ovviamente ho vissuto perché quello era il mio periodo della mia età il periodo che va dal 68 al 77 78 i famosi periodo abbastanza buio per la nostra democrazia e un libro di Jean Couty che si intitola Assoluzione di un amore che è un romanzo anche quello è una cosa bellissima che avrebbe dovuto avere e dovrebbe avere secondo uno sbocco nelle scuole beh io lo spero e me lo auguro ogni volta che pubblico un romanzo certamente questi romanzi hanno una precisa collocazione storica e quelli sono gli anni del terrorismo e sicuramente il libro e il romanzo li rappresenta benissimo tra l'altro avevo pubblicato anche un altro libro che si occupava degli anni 70 in particolare del movimento di lotta continua e avevo avuto il libro di Sergio Sinigalli a lunga durata e aveva una bellissima prefazione di Adriano Soffri quindi io cerco sia di pubblicare libri di storia storia contemporanea sono del 900 ogni anno mi sono presa l'impegno che ogni anno il 25 aprile pubblico il libro sulla resistenza tira la storia? beh è un pubblico di nicchia quindi io certamente ci sono dei lettori appassionati di storia io lavoro soprattutto per loro ma anche cercando appunto di rendere la storia leggibile quindi presto attenzione anche alle memorie ai diari appunto a questi romanzi tra virgolette queste storie raccontate la mia collana si intitola storia storie proprio per cercare di arrivare anche ai più giovani tentare di arrivare nelle scuole qual è la tiratura dei vostri libri così media diciamo storia totte romanzo totte ma dipende no dipende non c'è mai oggi fortunatamente noi editori siamo aiutati dalla stampa digitale una volta si stampavano solo in offset i libri quindi eravamo costretti a una tiratura piuttosto alta oggi si possono fare poche copie poche centinaia di copie insomma e ristamparle all'occorrenza noi più o meno tutti facciamo così quindi stampiamo inizialmente 3, 4, 500, 800 a seconda dei casi poi se servono se le copie finiscono si ristampano con facilità tornando al rapporto con la diciamo con la l'editoria chiamiamola commerciale come dicevamo all'inizio di questa nostra chiacchierata molti vi probabilmente per invidia credo molti vi accusano di non essere attrezzati come loro che significa questo? non ne ho la più pallida idea perché loro poi potete fare tutto lo stesso che possa fare una grande casa di felice certo noi lo facciamo con più attenzione faccio un esempio appunto Massimo Canalini Massimo Canalini era stato proposto di lavorare per stile libero in Audi e lui ha rifiutato proprio perché lui pensava giustamente credo di non poter portare avanti il il proprio lavoro di di editing lui ad esempio quando lavorava sul libro quindi faceva l'editing significa rendere più tridimensionale la narrazione inverare lo stile e la volontà dell'autore quindi non sostituirlo certamente ma per fare questo lavoro bisogna lavorare con l'autore molto tempo giorni settimane mesi anni addirittura e questo l'editoria industriale non lo potrebbe consentire perché oggi si aspetta un ricavo dei libri lo stesso che si aspetterebbe per delle televisioni per delle magliette dell'abbigliamento che non è giusto mentre sul libro non si può pretendere quel ricavo c'è bisogno di un lavoro spesso appunto come il nostro non pagato si lavora tanto tempo con gli autori e questo l'editoria industriale non potrebbe mai consentire però io credo appunto che così si possa no si possa davvero fare cultura si è parlato recentemente della libreria delle muse parliamo un momentino sì questa è un'iniziativa che riguarda gli editori di cultura e ricerca di Ancona abbiamo creato una sinergia io detesto questa parola perché ormai la dicono tutti tutti parlano di sinergia ma almeno sinergia deriva dal greco però oggi è meglio detestare l'altra roba che deriva dall'inglese di cui non si sa il significato qualche volta credo adesso non lo so comunque no a proposito di questa sinergia l'abbiamo creata con il teatro delle muse che quindi è la struttura della cultura cittadina di Ancona il suo direttore Veglia Papa è stata assolutamente illuminata a mio avviso mettendoci a disposizione due sale a fianco della biglietteria che noi abbiamo edibito a libreria in cui vendiamo i nostri libri e soprattutto ogni venerdì alle 18 all'interno del teatro la foglia di prima galleria noi presentiamo i nostri autori facciamo delle chiacchierate sono delle conferenze sullo stato appunto dell'editoria su della scrittura eccetera e io credo che mettere insieme appunto chi fa cultura oggi in un territorio è l'unica soluzione però molti lo dicono poi difficilmente si riesce a fare ecco noi fortunatamente con il teatro delle muse siamo riusciti a metterlo in piedi un paio di domande le ultime due sei stata fra le promotrici e promotori anzi scusami del convegno che c'è stato tre o quattro anni fa 100 intellettuali nelle Marche ma era una provocazione o ci sono 100 o ce ne sono di più o quei 100 come hai fatto a sceglierli allora provocazione è una di quelle parole che io detesto che toglierai dal vocabolario in ogni caso no avevo pensato parlando appunto con alcuni personaggi politici della regione che non conoscessero affatto il potenziale culturale intellettuale del nostro territorio soprattutto in un'epoca in cui gli intellettuali sono scomparsi credo che non siano scomparsi in realtà se ne stanno semplicemente rintanati perché nessuno li cerca più nessuno li vuole più una volta erano gli intellettuali metter a pensier e la politica e la società beneficiava del loro lavoro loro erano dei savants al servizio di una comunità oggi metter a pensier probabilmente sono i cuochi i chef semmai dettano linee e tendenze io ho pensato che fosse opportuno invece tirare fuori gli intellettuali in realtà i 100 che ho messo insieme ho rinchiuso in un albergo per due giorni e l'ho ripetuto due anni questi 100 intellettuali per le marche erano sia intellettuali marchigiani sia italiani nazionali però molto legati al nostro territorio che lo conoscevano profondamente e io ho pensato che mettendoli insieme in questa sorta di pensatoio potesse scaturire qualche idea secondo me delle idee sono emersi in effetti qualcuno le ha ascoltate comunque so che ancora qualche mente fuma da quelle parti un libro per esempio di ricette dai quello ti rirebbe molto ho fatto anche quello però le ricette sono sempre solo una parte rispetto alla narrazione che cerca di ricostruire il quadro antropologico per ricette è cultura quindi cultura è un territorio certamente io cercavo di recuperare la cultura antropologica del cibo che descrive quindi una società e un territorio ne ho fatti due o tre tra l'altro ne ho portato qui uno Brodetto Gonia di Renato Novelli e che questo è un libro che uno pensa sul Brodetto ma in realtà è un vero e proprio saggio filosofico antropologico che spazia a 360 gradi ma d'altronde Renato Novelli è davvero un grande affabulatore questo è un libro che ho ristampato tre volte viaggio intorno al Brodetto sì sì è un vero e proprio viaggio e ci porta fino in Thailandia addirittura senti ultima cosa noi abbiamo i nostri 25 lettori non è che ci segui più più di tanto tanta gente ho detto quindi franoiate chi è che non pubblicheresti mai degli italiani credo Margaret Mazzantini ad esempio perché il problema è questo tutti noi abbiamo avuto una storia d'amore che è finita male tutti noi abbiamo avuto una mamma malata una nonna in fin di vita ma questo non necessariamente fa un libro è qualcos'altro la scrittura che fa un libro bisogna saper scrivere signora Mazzantini questa è Valentina Conti prendere o lasciare lei fa capo una bella parte della nostra editoria quella che molti dicono di nicchia ma io poi non ci credo mica tanto alla prossima volta metto qui che ringrazio vediamo veramente ehi faccio lo so lo vedremo siediti se vuoi perché detto fra noi fra un po' ti faccio un'intervista Non devi preoccuparti se i tuoi pensieri vanno a destra, al centro da sinistra Devi troccarti un po', sembri un gufo sul comò, però sei il primo della lista E ne so, ti dirò, mi importa solo che tu non mi faccia il qualunquista Ho detto, però non ci sta anche meglio